Bella a tutti ragazzi, qui è M89Gamer e siamo tornati in un nuovo video di Fortnite Vi dico già che è un video di allenamento che ho fatto col mio account secondario È un video con tante kill ma non sono riuscito a portarmi purtroppo a casa alla vittoria reale Perché il Barret mi ha tradito all'ultima kill Ma come si dice, non tutte le ciambelle escono col buco Mi raccomando ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like Iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e su Twitch dove faccio le live Trovate tutti i link qui sotto in descrizione E quindi cosa c'è da dire ancora? No, scusate Pronto? Ah, è la sigla No, scusate No, scusate Se mi guardano sono morto A parte che ho dato una laggata incredibile Roto Roto No, scusate No, scusate No, scusate Non, scusate Grazie 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 Hey you see me, picture's crazy All the world have seen before me passing by I've got nothing, no game to lose All the world have seen before me passing by You don't care about how I feel, I don't feel it anymore You don't care about how I feel, I don't feel it anymore You don't care about how I feel, I don't feel it anymore You don't care about how I feel, I don't feel it anymore I don't sleep, I don't feel it I don't live, I don't feel it Been a long day without you my friend And I tell you all about it when I see you again And I tell you again, there's no drive Grazie a tutti Grazie a tutti